Onorevole Roberto Rosso, Presidente del Comitato di Indirizzo Politico di Vercelli Polis, Giovani Pensanti, la politica si avvicina ai giovani. Sì, abbiamo voluto recuperare il gusto e il sapore per cui tanti come me avevano alcuni anni fa aderito a questa iniziativa di partecipazione alla politica. Purtroppo oggi ci accorgiamo che in molti casi molti giovani hanno una visione invece completamente negativa della politica e dobbiamo cercare di cambiarla facendo in modo che coloro che già oggi partecipano all'attività dei consigli comunali, dei consigli provinciali che hanno meno di 35-40 anni possano insegnare ai loro amici, ai loro coetanei quanto è bello essere cittadini anziché sudditi. Una politica declinata a livello comunale, provinciale, regionale e poi anche nazionale con le porte di Senato e Parlamento aperte. Giovani che a volte sentono distante però questa politica. Sì, abbiamo anche, come dire, una tendenza in atto in Italia a fare in modo che la politica diventi sempre più lontana. La politica difende i ceti deboli, difende coloro che hanno meno voce per farsi valere in proprio. E pertanto è ovvio che gli interessi forti, i gruppi di potere importanti, tendano necessariamente a fare in modo che la politica venga sviluppata. Quanto più i rappresentanti della politica sono deboli, quanto più sono sputtanati, tanto più avremo una società nella quale i gruppi forti avranno molto più potere di quanto non ce l'avrebbero normalmente. Quindi dobbiamo ribaltare questo paradigma. Dobbiamo fare in modo che giovani nuovi che vogliono affrontare la vita come cittadinanza abbiano la possibilità per entrare, con porte aperte in questa dimensione della politica. E da questo punto di vista, torno a ripetere, il paradigma è quello di essere cittadini e non sudditi. Il problema è proprio quello di partecipare alle cose per poter essere protagoniste anziché subirle. I giovani a volte sentono la politica distante, ma altre volte non sono preparati però ad affrontare nel modo migliore la politica. E proprio per questo abbiamo pensato, giovani pensanti, con Massimo Simione e altri amici qui della provincia di Vercella, abbiamo pensato che fosse il caso, io sono diventato proprio in questo quadro come direttore dell'indirizzo politico, abbiamo pensato di far sì che ci potesse essere un luogo sia virtuale attraverso il sito internet, sia reale attraverso i vari incontri che organizzeremo, in cui tanti giovani che o partecipano direttamente all'attività politica nei consigli comunali, provinciali e regionali, oppure abbiano intenzione di farlo nel prossimo futuro, possono trovare una dimensione in cui incontrarsi, in cui ragionare insieme, in cui vedere che la politica non è soltanto noia, non è soltanto casta, ma è anche invece il luogo dove poter crescere, dove poter costruire qualcosa di comune insieme. A un giovane che invece ha voglia di politica, che cosa si sente di dire? Che è l'occasione buona per iniziare, che non è semplice oggi farlo e pertanto è anche, se vogliamo, il rituale farlo oggi. E per persone che pensano, anziché subiscono il pensiero altrui. Oggi c'è la tendenza a subire troppo il pensiero che viene dagli altri, attraverso i media, attraverso i grandi mezzi di comunicazione. E' importante che ci sono giovani che pensino in proprio, che costruiscono il proprio futuro, che costruiscono la propria dimensione, come una dimensione che può essere alla portata di tutti, di tutti noi. E da questo punto di vista, se un giovane avesse voglia di entrare in politica, credo che sia l'occasione buona per dimostrare che non tutti subiscono, ma qualcuno costruisce.